Quella che è la vostra idea di riforma del fisco, per chi non mi conosce io sono stata cinque anni alla Camera in Commissione Bilancio, vengo da Torino, sono lavorato in Economia, non sono un commercialista ma nella vita ho avuto un mio studio, ho lavorato in uno studio di famiglia che si occupa di abilità e conosco... Grazie a tutti.